Benvenuti nel mondo Artia. Ivan Arpa è uno dei più audaci e innovativi creatori di orologi al mondo. Con un'esperienza decennale nel settore dell'orologeria, ha dato un contributo significativo ad alcune delle più grandi storie di successo del settore. Nel 2010, ha lanciato il suo marchio, chiamato Artia, un gioco di parole tra arte e il suo nome Ivan Arpa. Questo incredibile creatore del tempo non segue le regole del settore, ma crea pezzi d'arte unici e irripetibili che non rientrano in nessuna categoria esistente di orologeria. Ogni pezzo è numerato o addirittura unico, fondendo l'audacia con la creatività in modo dirompente e provocatorio. Nessuno in questo settore è riuscito a muoversi così tanto in così poco tempo. Artia è un'azienda indipendente al 100%, con una squadra altamente reattiva composta da meno di 10 persone. Ha una propria produzione, qualcosa che pochissimi marchi svizzeri possono vantare. La sede amministrativa del marchio e la sua produzione hanno sede nel centro di Ginevra. Le collezioni di Artia sono innovative e di tendenza. E sono suddivise con il nome Sonoff, come ad esempio Sonoff Sound o Sonoff a Gun. Ivan Arpa crea spettacolari varianti ogni anno, utilizzando alcuni concetti molto innovativi e materie prime non convenzionali, come ali di farfalla, pietre, proiettili veri, euro veri triturati, casse colpite da veri fulmini o olio motore, solo per citarne alcuni. Tutti i quadranti fatti a mano delle varie collezioni sono realizzati dall'artista Dominique Arpa Circa, applicando numerose tecniche, mai utilizzate prima in questo settore. La ricerca di materiali e trattamenti esclusivi o inediti per gli orologi e l'eccezionale Savoir Fair di Ivan Arpa, hanno portato al successo della sua azienda. Artia è diventato un marchio di lusso affermato nel settore dell'orologeria e un'opzione preferita per chi cerca un orologio unico, innovativo e di tendenza. Grazie a tutti.